Niente da fare per l'Ermea Olbia che incassa una secca sconfitta a Casalinga per 3-0 contro il San Giovanni Marignano e resta a bocca asciutta nella pool promozione della 2 femminile di pallavolo. Un incontro nel quale la squadra isolana ha quasi sempre dovuto inseguire le ospiti capaci nel primo set di allungare dal 21 pari al 25-22 con gli attacchi Raconsca e Bolzonetti. Anche al rientro in campo sono state le romagnole a prendere il largo dopo i primi scambi, gli olbiesi si sono rifatte sotto fino al 18-19 ma di nuovo la maggiore decisione delle avversarie ha avuto la meglio per 25-20. Le ragazze Idino Guadalupi hanno provato a riaprire il match nel terzo parziale portandosi avanti fino al 17-13 ma la reazione di Cafuri e compagni non ha tardato ad arrivare e dopo il pareggio sul 18 pari con Peirovic è arrivato il nuovo allungo fino al 25-22 con le schiacciate della matchwinner Bolzonetti. Ci aspettavamo partite di questa difficoltà e oggi si è visto a tratti un buon atteggiamento però alternato a tanti blackout e purtroppo non siamo riusciti poi a riprendere nel punteggio per provare a strappare anche solo qualche punto. Ora l'Ermè ha altre tre occasioni per provare a muovere la classifica della PUL. Lunedì 3 aprile ancora in casa contro il Talmasson e nella doppia trasferta dell'8 e del 16 a Martignacco e Soverato. Impegni complicati ma è comunque importante provarci.